Il record stagionale di spettatori per la Serie B al San Nicola 19.360, ma è solo il pubblico però a dare emozioni, primo tempo bloccato, Joe Silva prova con il sinistro la girata, poi ancora la squadra di Alberti che prova a farsi vedere la testa di Ceppitelli che però non inquadra lo specchio della porta. Il teresimo minuto ancora su una palla da fermo, questa volta è Polenta che prova l'incornata, alta sopra la traversa, nessun problema per Achille Coser, poi Calderoni prova a metterla al centro, qui invece Coser se la ritrova tra le braccia, sempre sul colpo di testa dell'attaccante portoghese, ancora una punizione di Polenta, ancora la girata di Ceppitelli. Prova a farsi vedere anche il Cesena Nel primo tempo il colpo di testa di Emanuele Cascione, c'è la risposta da parte di Guarna Nella ripresa è ancora il Bari, provare l'assalto, il tentativo da parte di Fossati, il sinistro pigro però che finisce tra le braccia di Achille Coser al secondo minuto poi prova a farsi vedere il Cesena, De Frel la mette per Bellingheri che la tocca soltanto, Cascione con questo destro da dimenticare, troppo d'esterno, finisce sul fondo anche in questo caso nessun problema per il Bari De Frel uno sicuramente dei più attivi insieme ad Alessandro, palla dentro per Rodriguez che tutto solo fallisce la possibilità di far portare il vantaggio il Cesena poi Bari che nel finale ci prova con Galano, entrato, ha cambiato un po' le sorti della gara e soprattutto questo destro da parte di Schaudone, anche lui è entrato nella ripresa, era influenzato, è partito dalla panchina lo stesso Defendi prova con questo destro a impegnare Achille Coser a Bari che non trova il vantaggio nel finale succede un po' di tutto ma soprattutto la grande occasione proprio per Galano che supera Bangura, poi con il destro non è il suo piede, Coser non trattiene alla fine volta mette in corner, prova aizzare il pubblico Galano poi su questo pallone che vaga in area di rigore c'è Edgar Ciani che sbaglia così, il gol dell'1 a 0, finisce 0 a 0